Vuoi vendere la tua casa ma c'è un'ipoteca iscritta? In questo video ti spiego come farlo. Ciao, sono Ernesto Palano, consulente immobiliare. Se vuoi leggere qualche articolo o vedere qualche video che riguarda il mondo immobiliare, visita il mio sito oppure iscriviti al mio canale. Sono mesi che stai pensando di vendere il tuo immobile, ma la domanda che ti fai è ma come si fa a cancellare l'ipoteca? I passaggi da fare sono semplici, ma vanno fatti esattamente in questa maniera. Primo passaggio da fare, verificare il tuo debito residuo. Come si fa? È molto semplice. Opzione numero uno, semplice telefonate in banca, sperando che ti rispondano. Cerchi di parlare con un impiegato e ti fai dire quello che è il debito residuo del tuo mutuo della tua casa. Opzione numero due, prendi il tuo atto di mutuo. Forse non lo sai, ma nell'atto di mutuo c'è quello che si chiama piano di ammortamento. Lì potrai andare a leggere, andando avanti con le rate, quello che è il tuo debito residuo alla data che ti interessa. Passaggio numero due, fai fare una valutazione reale del tuo immobile. Come mai è così importante? Allora, ci siamo detti che vuoi vendere e abbiamo detto che però c'è un'ipoteca iscritta dalla banca che ti aveva concesso il mutuo. È importantissimo sapere quanto vale oggi il tuo immobile e ti faccio un semplice esempio. Mettiamo che tu avevi pagato la casa 100.000 euro e avevi fatto un mutuo di 80.000 euro. Se la tua casa oggi vale 60.000 euro, capisci bene che per istinguere il mutuo mancano 20.000 euro di differenza. Quindi, se vuoi vendere e quei 20.000 euro non ci sono, potrebbero esserci delle difficoltà. A questo punto comprendi, penso insieme a me, quanto è importante avere una valutazione reale del tuo immobile. Abbiamo visto il piano di ammortamento, ci siamo fatti fare una valutazione del nostro immobile e tutto rientra nei parametri che a noi interessano. Mettiamo in vendita e vendiamo il nostro appartamento. E adesso come si farà a cancellare l'ipoteca? Adesso ti racconto come faccio io. Ti ho venduto la casa. Decisa la data dell'atto, ti chiederò la cortesia di far fare alla tua banca i conteggi estintivi del mutuo proprio a quella data lì. Avuti i conteggi di estinzione del mutuo, li comunicherò al tuo acquirente. Il tuo acquirente si dovrà preoccupare di fare semplicemente una cosa. E cioè dovrà far preparare dalla sua banca un bonifico o un assegno intestato direttamente alla tua banca per l'estinzione del mutuo e la totale cancellazione dell'ipoteca. La restante parte a saldo del prezzo verrà invece intestata direttamente a te. Come hai visto i passaggi sono davvero semplici ma vanno fatti esattamente in questa maniera per non incorrere impossibili problemi.